Se uno vuole approfondire un po' Keplero e le sue tre leggi, può guardare questi tre video della playlist di prima Storie dell'Astronomia. In questo terzo video in particolare c'è proprio la spiegazione dettagliata di come fu dedotta, cioè scoperta, la terza legge di Keplero. Poi più avanti c'è tutto un blocco di video sulle fasi di Venere, la scoperta di Galileo che dimostrò inconfutabilmente che il modello geocentrico di Ptolomeo era necessariamente sbagliato, in quanto Galileo, grazie all'utilizzo del cannocchiale, osservò per primo le fasi di Venere e si rese conto che le sue osservazioni erano assolutamente impossibili da riprodurre nel paradigma del sistema tolemaico. Al contrario, le fasi di Venere osservate da Galileo trovano una spiegazione del tutto ovvia e naturale all'interno dell'altro paradigma, cioè il sistema heliocentrico. Queste cose sono spiegate in dettaglio in questo blocco di video che va da fasi di Venere 1 fino a fasi di Venere 4.